Rischia all'amputazione di una mano un operaio sessantenne della Gindal Film, vittima di un incidente sul lavoro all'interno dello stabilimento della multinazionale nella zona industriale di Brindisi. La mano dell'uomo sarebbe stata stritolata da un macchinario utilizzato per la produzione di materiale in propilene. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato egli stesso a riuscire a fermare la macchina, prima che le conseguenze fossero ancora più devastanti. Immediatamente soccorso dei colleghi è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Perrino di Brindisi e da qui trasferito al policlinico di Bari, dove stanno cercando di salvargli la mano. Il macchinario è stato posto sotto sequestro su disposizione della magistratura, mentre accertamenti sul posto sono stati effettuati dagli ispettori dello Spesal del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Brindisi. La Gindal Film è una multinazionale leader mondiale nella lavorazione di materiali polimerici per la produzione di packaging in polietilene e prolipropilene.